Salve sono Urbano della San Moreno Volkswagen Audio di Fucecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata del nostro parco vetture usato. Si tratta di questa bella Fiat 500X ed è un 1.300 multijet 90 cavalli dell'anno 2016 e ascoltate bene è una vettura che può essere guidata anche dai ragazzi e ragazze ne ho patentate perché rientra nei canoni della potenza quindi una macchina totale per la famiglia e per incominciare a guidare con una vettura veramente bella e moderna intanto andiamo a vedere alcuni particolari in questo caso della carrozzeria di questo bel grigio scuro antracite e come potete ben vedere si presenta in un modo veramente eccellente ammaccature zero graffi non ci sono una vettura proprio all'esterno presentabilissima e andiamo a vedere a questo punto i particolari in questo caso il bagagliaio anche questo molto ampio con i suoi sedili sdoppiati e sotto il pianalino abbiamo il kit di emergenza mentre all'esterno abbiamo maniglie cromate vetri scuri posteriori cerchi in lega da 18 pollici dopo vedremo lo specifico delle gomme passando anche all'interno troviamo sul pannello anteriore sinistro gli interruttori dei quattro vetri elettrici e l'interruttore per la registrazione degli specchietti esterni sempre elettrici andiamo a vedere anche una panoramica del cruscotto e a questo punto anche la sua tappezzeria che come il nostro solito l'abbiamo fatta lavare igienizzare a vapore con questa lavorazione specifica il risultato quindi della lavorazione è questo è l'avere una tappezzeria bella pulita profumata quindi un'accoglienza all'interno della vettura veramente ottima e adesso andiamo a vedere i particolari della nostra vettura intanto l'autoradio con il suo viva voce quindi ci possiamo registrare con il bluetooth il nostro cellulare il climatizzatore la presa usb cambio manuale a 5 marce interruttore per modificare il nostro stile di guida freno a mano elettronico passando al volante abbiamo il volante multifunzione con a destra gli interruttori per registrare il nostro cruise control quindi il regolatore di velocità a sinistra gli interruttori per l'autoradio e per il viva voce per il telefono passando al chilometraggio solamente 71 mila chilometri vettura di unico proprietario con la manutenzione tutta fatta quindi una vettura tutta controllata meccanicamente quindi ancora da sfruttare altri particolari cerchio in lega anteriore sempre naturalmente da 18 pollici con gomme ancora tutte da sfruttare sono un buon 50% fari fren di nebbia cromatura del fregio anteriore quindi una vettura anche molto bella da vedere le nostre vetture prima di essere messe in vendita vengono sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service tramite una checklist di multicontrollo e sono praticamente 110 punti da vedere e controllare punto a punto quindi per consegnare una vettura quanto più affidabile possibile tutto deve funzionare dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come dice la legge con la possibilità del cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità per il cliente di avere anche pagamenti rateali a tasse agevolati abbiamo più soluzioni che vi saranno comunque spiegate se ne avete bisogno dopo questa breve presentazione passiamo ad un giro di prova su strada e adesso salite in macchina insieme a me a fare il giro di prova e nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è la pulizia la profumosità quindi l'accoglienza una bella accoglienza come deve fare naturalmente una qualsiasi vettura a cosa serve il nostro giro di prova? serve a capire il buon funzionamento della vettura cambio frizione scatola di guida sospensioni rumorosità varie bene andiamo ad analizzare ognuna di queste componenti da questi primi metri cambio e frizione mi viene da notare che hanno un ottimo funzionamento frizione morbida innesti del cambio morbidi e precisi su strada la vettura si comporta ottimamente va molto dritta quindi anche a livello di convergenza e assetto la troviamo proprio al top la scatola di guida in questi incroci dove la dobbiamo girare parecchio la sento precisa senza giochi e quindi sicurezza di guida su strada andiamo adesso a sentire il lavoro delle nostre sospensioni le sentiamo sì l'assorbimento delle buche quindi il loro lavoro ma non sentiamo rumorosità anomale quindi battiti vibrazioni quindi un ottimo assorbimento delle buche anche se la vettura con le sue gomme da 18 pollici ha un'impostazione sportiva quindi la sentiamo abbastanza rigida ne va però della ottima tenuta di strada un'altra informazione molto importante se abitate lontano dal nostro punto vendita possiamo prendere in diretta un appuntamento telefonico e con una videochiamata presentarvi la vettura in diretta punto punto pregi e difetti per far per far sì che se desiderate poi venire di persona non troviate sorprese sapete già di cosa stiamo parlando questo ne va per la nostra la nostra trasparenza del lavoro quindi dopo aver capito e provato bene la macchina e aver capito che ha un ottimo funzionamento torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni e a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo cosa che non diciamo nel video perché non ci sembra giusto andate a visitare anche i nostri canali social facebook instagram all'indirizzo saninoreno srl dove troverete tutte le promozioni sui prodotti che noi trattiamo volkswagen e augen visitatelo perché è molto bello e dettagliato quindi vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Fiucecchio naturalmente in tutta sicurezza oppure telefonate ai nostri numeri vi saranno date tutte le informazioni che desiderate un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura